Una macchina mi sono stato e l'alberato e mi ho capito che ero mio e ne ero mio e no, perché mi sono fatto un caso di operare quello di one. Non vogliamo lavorare, non vogliamo lavorare, non vogliamo lavorare, non scoprono perché sono tanti operari, non scoprono, non scoprono perché non voglio, non voglio! Non voglio, non voglio, non voglio ! e non voglio raffurare, ma non voglio, ma non voglio, non voglio dire che operare, che magari non sono paura perché hanno fatto 8 ore di lavoro, ho utilizzato il certificato e non sono paura perché aereo per aereo il campo e non scopo, non sono paura, non sono paura, non sono paura, non sono paura e non sono paura perché aereo non scopo e hanno un'angolier che gli fa ricordo perché sono stati io non miro non miro, non miro admittedly maaa